A Londra va in scena l'edizione 2018 del World Travel Market, tra i principali eventi internazionali dell'industria turistica. E l'anduja calabrese è la regina dei prodotti d'eccellenza dell'enogastronomia made in Italy, come ha spiegato lo chef Francesco Mazzei. L'anduja, come il bergamotto, come la liquirizia, come tutti i prodotti grandi calabresi, sono i miei cavalli di battaglia. È stato abbastanza facile convincere gli inglesi, perché comunque sono prodotti di grandissima qualità e si vendono benissimo. È normale che poi uno chef li usa in maniera diversa o particolare e quindi crea quell'interesse verso il prodotto che lo fa commercializzare e vendere molto meglio. Il presidente dell'ENIT, Giovanni Bastianelli, ha sottolineato l'importanza della presenza italiana alla manifestazione. Un mix tra arte, cultura e enogastronomia, tra tradizioni e sapori. Stiamo cercando di puntare su quello che i turisti apprezzano dell'Italia, cioè lo stile di vita italiano, una vicinanza alla natura, la sostenibilità delle nostre destinazioni turistiche e naturalmente la cultura. Ma al centro c'è il cibo, c'è il nostro mangiare, i prodotti della terra, il legame con il territorio, il racconto. Noi devono essere bravi a raccontare, a narrare quello che si può trovare in Italia. Questa è una fiera importante, abbiamo 16 regioni, più di 1500 operatori. È una delle fiere più importanti del mondo e siamo lo stand più grande tra le nazioni presenti qua e questo vuol dire che noi stiamo investendo tanto nell'immagine perché in questo momento l'Italia è veramente molto ricercata.